Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi Averissimo, associazione a delinquere di quei quattro. All'isola associazione a delinquere dei quattro dell'orsa maggiore. Nadia Rinaldi, eliminata dall'Isola dei Famosi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la sua burrascosa permanenza in Honduras, durante la quale nel gruppo non ha riscosso grande successo. Lo fa durante un'intervista a Averissimo, ospite di Silvia Toffanin. In particolare la Rinaldi si scaglia contro coloro che lei stessa ha etichettato come i quattro dell'orsa maggiore, i più giovani del gruppo dei naufraghi, definiti una associazione quasi a delinquere. Come scrive Leggo, la Rinaldi prosegue, loro hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se rimarranno loro sarà l'Isola dei Forse e saranno famosi. Poi Nadia comincia a parlare di Francesco Monte, che l'ha nominata, prima mi sembrava basso, ma quando l'ho incontrato dal vivo era molto bello. Mi stava simpatico. Una notte ha avuto un sogno bruttissimo e ha nominato la madre, poi ho saputo che era morta.